Cosa è la plasia dei globuli rossi? La plasia dei globuli rossi è una malattia del midollo osseo in cui i precursori dei globuli rossi diminuiscono, portando a un calo complessivo della produzione di globuli rossi. Altri componenti del sangue come i globuli bianchi sono presenti in concentrazioni normali con questa condizione. Il paziente sviluppa un'anemia acuta a causa della carenza di globuli rossi e può diventare molto malato senza trattamento. L'assistenza può coinvolgere i medici da una serie di specialità, in quanto le cause di questa condizione possono essere diverse. Nella plasia dei globuli rossi, il midollo osseo non può produrre abbastanza globuli rossi e il paziente inizia a sviluppare stanchezza, pallore e altri sintomi di anemia. Un esame del sangue rivelerà un conteggio anormalmente basso di globuli rossi e potrebbe fornire alcuni altri indizi nella condizione, come il segno di un'infezione virale o di un'interruzione ormonale che potrebbe spiegare perché il midollo osseo non produce i giusti tipi di cellule nel necessario le quantità. Altre cellule appariranno fisicamente normali al microscopio. A volte la causa della plasia dei globuli rossi non è chiara. In altri, può essere una condizione autoimmune, in cui un problema con il sistema immunitario interferisce con la produzione di nuovi globuli rossi. Possono anche causare reazioni ai farmaci, così come tumori alla ghiandola del timo e infezioni virali. Un medico che nota i segni di aplasia dei globuli rossi può ordinare alcuni test per raccogliere maggiore informazione sulla causa, come la conta dei globuli bianchi per cercare numeri più elevati associati a infezioni o studi di imaging medico del timo per individuare un tumore. I trattamenti disponibili dipendono dal motivo per cui il paziente è malato. Alcuni pazienti beneficiano di farmaci steroidi per sopprimere il sistema immunitario e sperimenteranno un ritorno dei globuli rossi durante questi farmaci. Ci possono essere dei rischi per questo approccio terapeutico, in quanto qualsiasi infezione latente si rappresenterà mentre sugli steroidi a causa del sistema immunitario indebolito. I pazienti possono anche reagire male ai farmaci, e saranno ad aumentato rischio di infezioni fino a quando assumono gli steroidi, il che può renderli un cattivo metodo a lungo termine per la gestione della condizione. Se un problema di fondo causa la plasia dei globuli rossi, il trattamento che dovrebbe consentire ai globuli rossi di tornare alla normalità. Ciò potrebbe includere farmaci antivirali per infezioni, interventi chirurgici per i tumori e cure di supporto per aiutare il paziente a riprendersi. Il medico ordinerà il sangue periodico per vedere se il midollo osseo del paziente sta rispondendo al trattamento con un aumento della produzione di globuli rossi.